Invece finalmente spazio anche alla fisarmonica che io ritengo sempre lo strumento principe per quanto riguarda la musica, la musica da ballo, allora con un bel waltzer musette, il titolo è indifferente, signori arriva sul palco con la sua fisarmonica Rossano dell'orchestra Rossano e Anna! 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 Rossano mi ha detto, lo dico pubblicamente, Rossano tu fai con la fisarmonica quello che ti senti dentro che poi va bene, io l'ho preso da esempio. Grazie, è vero, è vero, è vero, grazie. Grazie, grazie, ciao papà Borghetti, un saluto, grazie, grazie per le belle parole. E allora pubblicità ancora qualche minuto, poi ritorniamo ancora con voi, quindi aspettate e non andate via da lì, a dopo. Grazie.